Pagliate Navità in gara, in seconda e persia Andrea Corvetti, la dedica appare a 7 a 8, la terza e la terza di Verani, il capitano di Enrico in carica della cattivaria di Nostanza, e la libera tecnica di Roma la parte e la terza per il 180, e la quinta per Ancini e Magalini, e la parola in cera dell'Upa Subicna di Verona. Grazie, grazie. 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 Grazie.